Giro di visite istituzionali per il nuovo prefetto di Ragusa annunziato Vardè di primo mattino al comune della città Capoluogo dove è stato ricevuto dal commissario straordinario Margherita Rizza, poi alla provincia regionale di Ragusa, a fare gli onori di casa il commissario straordinario Giovanni Scarso che insieme al vice commissario Giovanni Puglisi ha ricevuto il prefetto Vardè da qualche giorno insediatosi al palazzo del governo. Durante l'incontro il commissario Scarso ha portato il saluto dell'intera provincia al nuovo rappresentante del governo a Ragusa, mentre il prefetto ha espresso la sua intenzione di stare in stretto contatto con tutte le istituzioni locali e in modo particolare con quelle che hanno compiti sovraccomunali come nel caso dell'ente provincia. Il prefetto Vardè ha anche proposto di costituire con la provincia tavoli tecnici permanenti tematici per essere in grado di prevenire e affrontare eventuali problemi socio-economici che potrebbero sorgere durante la sua permanenza nella provincia eblea.